Un trentenne salernitano residente a Reggio Emilia è in carcere dopo che i carabinieri di Reggio Emilia lo hanno arrestato per via di una serie di condanne divenute definitive legate a reati vari, violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona, rapina e furto. Il trentenne ne avrà a fine primi mesi del 2024 se non detenuto per altra causa. L'uomo ha collezionato nell'ordine un anno per furto aggravato commesso a Eboli il 22 gennaio 2014, una condanna a 4 anni e 3 mesi di carcere per concorso in violenza sessuale di gruppo, sequestro di persone e rapina commessi a battipaglia nel novembre 2010.